che immagino non intenda replicare, il Governo pure avrebbe facoltà di replicare, ma immagino che non intenda replicare e qui, a seguito del dibattito, lo rinviamo ad altra seduta. L'ordine del giorno regla la discussione della mozione Vargiud, Inceco, Binetti ed altri 1-1191, concernente iniziative volte a riconoscimento della fibrosi polmonare e idiopatica come malattia rara e a garantire una più efficacia e omogenea assistenza sanitaria in relazione a tale parlatologia, la ripartizione dei tempi riservati alla discussione pubblicata nel calendario, aperto che è stata presentata, la mozione palese ed altri 1-1207, che vertendo su materia analoga, quella trattata dalla mozione all'ordine del giorno verrà svolta a congiuntamento, il testo è in distribuzione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, è scritto parlare l'onorevole Palese, prego, per l'illustrazione. Sì, grazie signor Presidente, desidero ringraziare il collega Vargio per aver presentato questa mozione su cui noi poi ci siamo raccordati, perché trattasi di un problema, di una patologia c'è molto importante. In un contesto di malattia rara, non c'è dubbio, ma il problema delle malattie rare è diventato un problema serio nel nostro Paese e comunque in Europa e nel mondo occidentale, perché occorre nel contesto di queste malattie rare, spesso e ben volentieri, c'è una grandissima difficoltà di sofferenza vera e propria da parte del paziente che ne viene affetto, ma anche c'è soprattutto dell'entourage della famiglia che deve sostenere una situazione molto drammatica. Quindi grande difficoltà dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, grandissima difficoltà dal punto di vista sociale. Le malattie rare rappresentano peraltro c'è una grande difficoltà di come pervenire in riferimento all'accesso sia c'è della diagnosi e sia poi c'è successivamente anche per quello che riguarda la terapia ed eventualmente tutti in essi c'è connessi in riferimento a quello che poi può essere uno supporto da parte dei servizi preposti nelle singole regioni o nei singoli territori.